Altra giornata di sangue, violenze in Afghanistan, i talebani hanno sparato contro i manifestanti che in diverse città sono sfilati per le strade nel giorno dell'indipendenza sventolando la bandiera nazionale. Scena drammatica, all'aeroporto di Kabul dove i genitori disperati hanno lanciato i loro bambini oltre il filo spinato chiedendo ai soldati di prenderli. Prosegue intanto il ponte aereo con l'Italia, finora è a oltre 600 gli afghani accolti nel nostro paese. E prosegue, febbrili, lavoro delle diplomazie, i draghi continuano a tessere la tela in vista del vertice straordinario del G20 che dovrebbe tenersi a settembre sotto la presidenza italiana. Ieri consultazioni con Putin e Macron, oggi si riuniscono i ministri degli esteri della Nato, presente anche Di Maio che in mattinata sarà ascoltato dal Copasir. Polemiche in Italia sull'apertura al dialogo con i talebani proposta da Conte. Ed è stabile l'andamento dei nuovi contagi da Covid in Italia, tasso di positività al 3,5%, registrati 55 decessi, ancora leggero aumento i ricoveri. Oggi il monitoraggio settimanale, secondo le prime valutazioni nessuna regione dovrebbe passare in fascia gialla. Nuovi provvedimenti di sospensione contro sanitari Novax in diverse regioni. L'OMS intanto boccia la terza dose e prima vacciniamo tutti. La prima Roma ufficiale, targata Murigno, passa in Turchia battendo 2-1 il Trabbonspore, ipotecando la qualificazione alla Conference League, la nuova competizione calcistica voluta dall'UEFA. Calciomercato, Pedro, passa sull'altra sponda del Tevere e fa contento Sarri. Colpo Florenzi per il Milan, stasera con Frosinone Parma, prende il via la Serie B, domani gli anticipi della massima serie. Sono le 7.30, buongiorno da tutti noi. Dunque, in primo piano c'è ancora la crisi afghana, le condizioni di apparente stabilità delle ultime ore sembrano essere peggiorate, così come le promesse fatte dai talebani, lo ricordate, in conferenza stampa appena due giorni fa sembrano essere cambiate. Violenze esparatorie ci sono state ieri in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza. Forte tensione si registra però ancora nei pressi dell'aeroporto di Kabul. Sono migliaia le persone che si ammassano presso le recensioni perché sperano di poter lasciare il paese e potersi imbarcare su un aereo. Vediamo. Da Kabul si salvi chi può. Gli afghani non si fidano delle rassicurazioni di facciata delle prime ore dei talebani, secondo cui non avrebbero cercato vendetta, e tentano di scappare assediando l'aeroporto della capitale. Madri disperate consegnano i loro bambini nelle mani di soldati stranieri con la preghiera di portarli in salvo. È la loro ultima speranza di assicurare un futuro ai loro figli, lontano dai nuovi talebani che sono tornati a sparare. Contro coloro che tentavano di fuggire all'estero sul primo aereo in partenza e sulla folla che celebrava l'anniversario dell'indipendenza dai britannici del 1919, issando la bandiera afghana in segno di sfida al vessillo del nuovo emirato islamico. Morti e feriti si contano nelle città orientali di Assad Abad e Jalal Abad. Nonostante quanto assicurato dai leader talebani, la situazione resta al massimo della tensione. Secondo un rapporto dell'intelligence delle Nazioni Unite sarebbe già iniziata la caccia ai traditori che hanno collaborato con le forze NATO. In cambio della vita gli studenti coranici chiedono che si aggreghino le loro formazioni. Fra i pochi che sono riusciti a lasciare il paese ci sono quelli che hanno trovato le porte aperte al confine con il Pakistan che rilascia visti anche a stranieri in fuga. Ma come vent'anni fa c'è una piccola parte del paese dove la minaccia dei talebani non arriva e da dove giunge un vento di speranza è la piccola valle del Panjshir che si prepara alla resistenza nel nome del venerato Ahmad Shah Massoud, nemico dichiarato degli studenti coranici che lo uccisero nel 2001, due giorni prima dell'attacco alle Torri Gemelle. Ora il posto di Massoud alla guida dei mujahidin afghani è nelle mani di suo figlio Ahmad e dell'ex vicepresidente Amrullah Saleh che da quando l'ultimo presidente afgano, Ashraf Ghani, è fuggito verso Abu Dhabi, si considera unico legittimo leader del paese. E la comunità internazionale naturalmente è fortemente preoccupata dopo la riunione del G7, dei ministri degli esteri del G7 di ieri, oggi ce ne sarà un'altra dei ministri degli esteri però della Nato. Ieri telefonate importanti sono state da parte del nostro premier Mario Draghi, ha sentito Putin, ha sentito Macron. Gli occhi naturalmente sono puntati sul ruolo che possono avere nell'area, nella regione, altre nazioni come la Cina, come la Russia, come la Turchia. Vediamo. Un coordinamento che stenta a decollare quello tra i paesi occidentali di fronte alla rapida capitolazione di Kabul. Il G7 dei ministri degli esteri si chiude senza decisioni concrete, i grandi hanno solamente lanciato una fella ai talebani a garantire la sicurezza di chi vuole lasciare l'Afghanistan. Il vertice in videoconferenza è stato accompagnato da una serie di telefonate bilaterali che hanno coinvolto Merkel, Macron, Draghi, Johnson e questa volta Vladimir Putin, dopo la frase cruda ma reale del capo della diplomazia europea Borrell, secondo il quale l'Unione Europea non deve restare da parte e lasciare il campo a Russia e Cina. È già tardi, visto che in Occidente ancora non si è deciso che atteggiamento tenere con i talebani, dialogare o isolarli. Problema già risolto da Mosca e Pechino che, se non formalmente, almeno di fatto, hanno riconosciuto la nuova dittatura islamista. La Cina avrà un grande ruolo nella ricostruzione, hanno spiegato ieri le autorità talebane, proprio mentre si lamentavano del blocco dei fondi della Banca Centrale Afghana, messo in atto dal Fondo Monetario Internazionale. L'attesa oggi è per la riunione virtuale dei ministri degli esteri della Nato, la grande sconfitta sul terreno afghano, con gli americani che fanno fatica a prendere la leadership dilaniati dalle polemiche sul tracollo delle forze di sicurezza locali e sulla rapida caduta di Kabul. Biden continua a difendersi anche nella ultima intervista alla ABC. Bisognava andare via, ripetuto, bisognava andare via, anche prima. Il suo segretario di Stato Blinken è sommerso dai rapporti semisegreti che trapelano sulla stampa statunitense da parte dei servizi americani, dei militari del Pentagono e ora anche quelli dell'ambasciata che aveva avvisato il governo della rapida avanzata talebana. Europa e Stati Uniti devono comunque agire insieme, almeno sulle questioni più urgenti, portare via dal paese i propri cittadini, tutti quelli che li hanno aiutati ad evitare un'imminente crisi umanitaria. Le agenzie dell'ONU calcolano l'arrivo di 2 milioni e mezzo di profughi con la Turchia, già terreno di raccolta per siriani, che non vuole avere lo stesso ruolo per gli afghani. Il compito verrà affidato ad un G20 straordinario da tenersi i primi di settembre. E intanto naturalmente non si ferma il ponte aereo per consentire ai collaboratori afghani di mettersi in sicurezza e uscire dal paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto romano di Fiumicino un altro volo, il quarto volo da quando è iniziata questa operazione, con a bordo 194 afghani evacuati proprio da Kabul. Vediamo. Prosegue il ponte aereo con Kabul. Nella notte all'aeroporto di Fiumicino sono atterrati 194 cittadini afghani, nell'ambito del piano predisposto dal Ministero della Difesa. Li aspetta un futuro tutto da costruire. Altri voli sono in arrivo. Dopo lo sbarco, la procedura di profilassi anti-Covid, e così come avvenuto per l'arrivo degli altri profughi nei giorni scorsi, il trasferimento nelle strutture dell'esercito italiano per osservare un periodo di quarantena. Poi, come nel caso degli altri connazionali da lunedì ospiti di un centro dell'esercito a Roccaraso in Abruzzo, sarà compito del Ministero dell'Interno seguire le procedure connesse all'accoglienza per l'asilo politico e per stabilire le loro destinazioni. Il ponte aereo umanitario, organizzato dal governo italiano, che fa la spola tra Kabul e Kuwait City, in quattro giorni ha portato in salvo oltre 600 persone. Molte altre, in pericolo, aspettano di partire nelle prossime ore, nonostante la difficile situazione nell'aeroporto di Kabul. Ad essere rimpatriati sono soprattutto cittadini afghani, ex collaboratori di istituzioni, aziende italiane, persone che hanno lavorato per le nostre forze armate, costrette a lasciare la propria terra per fuggire alle vendette dei talebani. Ieri mattina a Fiumicino sono arrivati 203 afghani, per lo più famiglie. Tra loro c'era Zahra Amadi, imprenditrice e attivista impegnata nella difesa dei diritti delle donne in Afghanistan, salvata grazie al disperato appello del fratello Ahmed, residente a Venezia. L'attivista, fuggita da Kabul, ha ringraziato il nostro paese, lanciando un appello. Io non conto, ha detto, sono solo una persona, ma dobbiamo aiutare le altre donne e tutto il mio paese, che non ha futuro. A toccare il suolo italiano, ieri, anche otto dottoresse della Fondazione Veronesi di Erap, un centro specializzato contro il tumore al seno, ormai non più attivo, che in otto anni ha curato oltre 10.000 donne e molti cittadini afghani. E la possibilità di riconoscere quali interlocutori, proprio la leadership afghana, anima il dibattito politico. Soprattutto nelle ultime ore a far discutere sono state le dichiarazioni dell'ex premier Giuseppe Conte. Vediamo com'è andata. L'apertura, seppure cauta, di Giuseppe Conte al dialogo con i talebani, catapulta l'ex premier nella bufera. E' vergognoso, replica il leader del Movimento 5 Stelle, che in Italia ci sia chi gioca a strumentalizzare fatti e dichiarazioni per biechi fini di polemica politica. Con un post su Facebook, Conte prova a ridimensionare il significato delle sue affermazioni. Con dialogo serrato intendevo esprimere la necessità che in questo momento la comunità internazionale faccia pressione sui talebani in modo compatto perché accettino condizioni e garanzie per il riconoscimento e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali della popolazione afghana. Precisazioni che non bastano a fermare la pioggia di critiche che investe l'ex presidente del Consiglio. A prendere le distanze era stato poco prima della rettifica via social lo stesso ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, esponente di Vertice e anche dei pentastellati. E' importante agire in maniera coordinata nei confronti dei talebani. Dobbiamo giudicarli dalle loro azioni, non dalle loro parole. La linea dettata dal G7 e dal titolare della Farnesina. In un colloquio telefonico con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Gutierrez, Di Maio ha indicato come l'immediata priorità italiana sia il completamento delle operazioni di rimpatrio dei cittadini italiani. E di evacuazione umanitaria dei collaboratori afghani e dei loro familiari. Il dialogo con i talebani, suggerito da Conte, non convince nemmeno il segretario del PD, Enrico Letta. Difficile dialogare, dobbiamo invece attrezzarci al peggio, afferma. Meno male che a Palazzo Chigi c'è Draghi e non Conte il commento caustico da Italia Viva e di Maria Elena Boschi. Giudizi durissimi anche dalla Lega con Roberto Calderoli. Impossibile, afferma, dialogare con Italia Gole. Dello stesso avviso anche Forza Italia con il capogruppo Roberto Chiuto. Come fa Conte solo a pensarlo. E cambiamo argomento. Adesso vediamo qual è l'andamento del Covid nel nostro paese, soprattutto i dati nelle ultime 24 ore. Ma oggi c'è attesa per la riunione del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, che dovrà fornire i dati utili a valutare se sarà necessario o meno un passaggio di colorazione di alcune regioni. Sotto la lente di ingrandimento ci sono Sicilia, Sardegna e Calabria. Intanto l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si dice contraria ad una terza dose. Dice prima vanno vaccinati tutti quanti. Ma facciamo il punto nel servizio. La crescita delle infezioni da SARS-CoV-2 è stabile. I dati riferiti alle ultime 24 ore del bollettino del Ministero della Salute riportano 7.260 nuovi contagi, in linea con i 7.162 di mercoledì. Con oltre 206.000 tamponi effettuati, il tasso di positività sale dal 3,2 al 3,5%. Diminuiscono i decessi, 55 contro i 69 del giorno prima. Occhi puntati però soprattutto sulle ospedalizzazioni. Nei reparti ordinari Covid sono entrati 68 pazienti, mentre nuovi ingressi nelle terapie intensive rimangono stabili, 18. Su questi due parametri il Comitato Tecnico Scientifico dovrà valutare oggi l'eventuale ingresso in zona gialla dell'unica regione che solo ieri ha contato 1.377 nuovi casi, la Sicilia. L'isola però potrebbe scampare alle restrizioni imposte dal passaggio dalla zona bianca a quella gialla, perché con la creazione di nuovi posti letto si abbassa la soglia limite, fissata al 10% delle terapie intensive. Uno scampato pericolo almeno fino alla fine di agosto che non deve però fare abbassare la guardia anche nel resto d'Italia. Dopo la Sicilia, la regione con più casi e la Toscana seguono Campania, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. La campagna vaccinale ha rallentato in questi giorni di agosto, siamo però arrivati a quasi il 67% della popolazione che ha completato l'intero ciclo. Adesso c'è l'incognita terza dose, entro la fine dell'anno potrebbero essere i grandi anziani soggetti fragili a riceverla, ma tutto è ancora da definire. Intanto l'OMS, la boccia senza mezzi termini per gli adulti dei paesi ricchi, non aiuterà a rallentare la pandemia, anzi potrebbe essere controproducente, ha detto il capo degli scienziati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché togliendo dose le persone non vaccinate si favorisce il pericolo di vedere emergere nuove varianti. E c'è stato un nuovo attacco Eichere, lo ricorderete, l'ultima volta era stato quello contro la Regione Lazio, questa volta contro la sanità regionale della Toscana. L'aggressione informatica è avvenuta nella notte tra il 17 e il 18 agosto con un virus del tipo ransomware in grado di criptare e rendere illegibili i dati che è riuscito a penetrare nel sistema dell'agenzia. Sono andati distrutti alcuni file, ma nessun dato sensibile, fanno sapere, è stato rubato. E adesso spostiamoci nel Viterbese, al confine in realtà con la Toscana, perché il rave party del quale si è parlato negli ultimi giorni e si è finalmente concluso. L'area è stata liberata anche dopo l'intervento della Polizia. Non si placano però le polemiche relative proprio alla presenza di tanti giovani insieme in questo unico luogo. Il timore è quello che possa esserci anche qualche focolaio relativo al Covid. Vediamo. C'è ancora qualche camper intorno al lago di Bolsena, ma ormai è tutto sotto controllo. Dopo cinque giorni è finito il mega rave party che aveva richiamato giovani di mezza Europa e infiammato le polemiche politiche agostane. Da Valentano, centro agricolo della Tuscia Viterbese, a pochi chilometri dal lago, l'allarme per la musica illegale è arrivato fino a Roma. L'area è stata liberata, non c'è più nessuno, ha annunciato soddisfatto il sindaco del paese Stefano Bigiotti ringraziando direttamente la ministra Lamorgese. Nessun problema di ordine pubblico, nonostante a Ferragosto il rave party avesse richiamato 10.000 ragazzi. Uno di loro è annegato nel lago di Mezzano e la procura di Viterbo ha aperto un fascicolo. Nei giorni successivi le presenze si erano ridotte di qualche migliaio, ma i decibel ossessivi risuonavano ancora nella zona, normalmente placida, intorno al lago. Con discrezione la polizia ha monitorato in questi giorni tutti quelli che entravano e uscivano dalla zona, identificando 3.000 persone. Poi il contatto con gli organizzatori e l'intimazione ad abbandonare l'area. All'arrivo dei blindati è circolato sui social un messaggio che non lasciava dubbi. Game over, come dire, la festa è finita. Così anche i più riluttanti hanno sgomberato il campo. La questura di Viterbo indaga per accertare la commissione di reati durante l'occupazione abusiva dell'area soggetta anche a vincolo ambientale. E proprio alla polizia va il ringraziamento degli amministratori locali, preoccupati per la gran massa di persone arrivate in quel piccolo comune. Ci auguriamo che ciò che è successo non accada a me più, dicono. Salvini attacca la ministra dell'Interno, dice non è adeguata al Viminale, mentre Meloni chiede il DASPO per i giovani identificati. Intanto l'assessore regionale alla sanità D'Amato annuncia tamponi per tutti gli abitanti della zona per scongiurare il pericolo di focolai Covid. Negli Stati Uniti adesso non aveva nessuna bomba nel suo furgone Floyd Ray Rosberry, il 49enne fan di Donald Trump arrestato dopo una tesa trattativa con le forze dell'ordine. L'uomo aveva minacciato per ore anche con una diretta su Facebook di far esplodere un ordigno vicino al congresso americano. Lo ha reso noto la polizia precisando di avere però trovato materiali che avrebbero permesso di confezionare delle bombe. Nel secondo site, il sito che monitora l'attività social dei terroristi, l'uomo è un membro del movimento pro-Trump Make America Great Again. E adesso il calcio, debutto vittorioso ieri per la Roma in Conference League. La squadra di Murigno ha sconfitto per 2-1 i turchi del Trabzon Sport, grazie alle reti entrambi nella ripresa. E allora, vediamo com'è andata. È un Milan scatenato quello che ieri ha messo a segno un altro colpo annunciato dal tedesco Schnellinger nel lontano 1965 ad Alessio Romagnoli sei anni fa e Alessandro Florenzi, il tredicesimo giocatore romanista che va a vestire la maglia rosso-nera. Giunge in prestito per un milione di euro e con diritto di riscatto fissato a 4 milioni e mezzo. Ma il club vuole mettere a segno altri colpi, probabile il ritorno a casa di Thiemui Ebakaio Co, 27enne centrocampista francese, dopo l'esperienza al Milan nella stagione 2018-2019. Con il Chelsea che non dovrebbe mettere ostacoli alla sua cessione. Per il ruolo di terza punta invece spunta il nome di Pietro Pellegri, ventenne cresciuto nel Genoa e per il quale nel 2018 il Monaco sborsò 30 milioni di euro. Non sta a guardare l'Inter che insiste per Marcos Turan, 24enne, figlio d'arte nato in Italia, attaccante rapido nonostante i suoi 192 centimetri. La missione dei dirigenti nerazzurri sarà ora quella di convincere i tedeschi del Borussia Mönchengladbach a cederlo. Passa invece sull'altra sponda del Tevere il 34enne Pedro. Da esubero nella Roma ha usato sicuro per l'attacco laziale, garantisce Maurizio Sarri che lo ha già allenato ai tempi del Chelsea. L'attaccante spagnolo vestirà la maglia numero 9 che ha scelto per questa sua nuova avventura. Da parte sua la Roma, reduce dal vittorioso esordio in Conference League di ieri, pensa al clamoroso ritorno in giallo-rosso di Miralem Pjanic, col bosniaco che sta valutando altre opzioni, poi allora sfumasse il suo ritorno alla Juventus. La Salernitana ha intanto perfezionato l'acquisto dal retrocesso crotone del 29enne gigante nigeriano Simi, 20 gol in 38 partite la scorsa stagione. Intanto sull'onda lunga del trionfo agli europei, il CT Roberto Mancini e il centrocampista azzurro Giorginio sono tra i candidati per il premio UEFA, che verrà assegnato al miglior tecnico e al miglior giocatore. 7.48 minuti, io mi fermo qui. Adesso do la linea a Camilla Delay, ci darà tutti gli aggiornamenti sulla viabilità autostradale, poi ci sono le previsioni del tempo, poi c'è Flavia Fratello per il dibattito. I suoi ospiti questa mattina sono Giulia Merlo, Mimosa Martini, Maurizio Pasca, Stefano Candiani, Valeria Braghieri, Elisabetta Gualmini e Emma Bonino. E poi a seguire c'è Marco Piccaluga, che conduce Coffee Break, i suoi ospiti Chiara Giannini, Sara Manfuso, Ferruccio De Bortoli, Benedetto Della Vedova, Fabrizio Pregliasco, Angelo Dejana. Insomma, è una mattinata davvero ricca. Se volete restate con noi e ci vediamo domani. Una buona giornata. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.